Con l'1 Zeus Thor, con il 2 Vip B, con il 3 Samima Ferro, con il 4 Zelante OS, con il 5 Zafferano Jet, con il 6 Zarax, con il 7 Zeta Jet, a completare la prima fila. In seconda 8 Zardefebi, 9 Zacinto DL, 10 Zwick del Circeo. Molto appoggiato Vip B, numero 2 con Antonio Di Nardo. Nei confronti di Samima Ferro, che è la principale alternativa. Tutto ciò a 150 metri dallo stacco. Si ritrae Zelante OS. Allo stacco è veloce Samima Ferro, che scavalca Vip B e scende alla corda nei confronti dello stesso e di Zafferano, che rimane all'esterno, mentre alla corda si infila con il numero 1 Zeus Thor. Ora spostato per linea esterna e Vip B, che ha intenzione di andare a chiedere il Stato e sembra esserci il Via Libera. Così si stabilizzano le posizioni al termine della piegata e del primo quarto di gara, che Vip B conclude al comando in 29 e mezzo. Vip al comando su Samima Ferro, poi Zeus Thor, all'esterno Zafferano Jet, che ora c'è a progredire, mentre per linea esterna si fa vedere anche Zarax. I cavalli sono al passaggio ai 600 in 45 e mezzo, con sempre Vip B al comando, il gruppo che si dispone in Pariglia. Si arriva così al paletto di metà gara, che il leader percorre nell'ordine dell'1 e 1 appena abbondante. Ora si fa un pochino più pressante l'azione di Zafferano Jet, che va all'attacco di Vip B, che deve reagire, provocando così anche un'accelerazione al ritmo della corsa. 1.16 il passaggio alla chilometro, c'è un 14.8 di frazione, con Vip B al comando. Zafferano impegnato per linea esterna, Samima Ferro che è lì, spettatrice interessata, quando si va adesso al completamento della piegata, gli altri un filo più indietro. I primi tre che continuano a lottare, non ha spazio per ora Samima Ferro, Vip B che comanda nei confronti dei due che inseguono dall'esterno. Si fa vedere anche con il numero 9, Zacinto DL, ultimi metri di corsa. Ora può sgabbiare Samima Ferro che va su Vip B, lo coglie un po' in rallentamento. Samima che attacca Vip B, Samima Ferro che passa nei confronti di Vip B e Zacinto DL, che si prende il terzo posto. 1.59.4 il tempo totale per Samima Ferro e Alessandro Gocciadoro che hanno trovato la luce agli ultimi 150 metri di corsa e sono riusciti nel finale ad avere la meglio su Vip B che alla fine deve accontentarsi del secondo posto. 43.2 a chiudere il tempo al chilometro che recita una media di 1.14.5. Il successo per Samima Ferro e Alessandro Gocciadoro alla guida e al treno in colori della scuderia Van Dijk. Il secondo posto per il numero 2 Vip B, il terzo per il numero 9 Zacinto DL. Grazie a tutti.